Virtus che si appresta ad ufficializzare qualche operazione in entrata per muovere le acque che ristagnano, dare segni di vitalità. Mister Daversa ha già espresso la volontà di partire per il ritiro di Roccaraso con buona parte della rosa a disposizione. Dunque nei prossimi dieci giorni si attendono novità a partire dal rinnovo dei prestiti per poi arrivare ai volti nuovi. Tra i pali il futuro rosso-nero sinora è sconosciuto a parte l'affidabilità di Vincenzo Aridità, il portiere della promozione in B sempre pronto alla causa, mai una parola fuori posto all'insegna della forza del gruppo. Il DS Luca Leone è tornato a Lanciano ma in settimana dovrà aprire la trattativa col Verona per la conferma, tra i pali, di Nicola Sandrade. Il rinnovo del prestito è tutt'altro che scontato al 50% delle percentuali. Se gli scaligeri dovessero dire di no, riflettori puntati su Timothy Nocchi, secondo lo Spezia, cartellino della Juventus, cercato però da altre compagini di Serie B pro Vercelli in primis. Sull'asse Lanciano Lazio potrebbero nascere fiori, sia tra i pali che in attacco. Se Leone dovesse chiudere per Toucarat, attaccante di prospettiva, il suo nome già circola da dieci giorni, l'affare potrebbe stendersi anche al portiere. Sempre della primavera, Guido, guerrieri da valutare. Cosa ne penserà Lotito? A centrocampo, sempre più vicino Leonardo Capezzi, che a giorni prolungherà il contratto con la Fiorentina, che poi lo girerà a Lanciano. Dovrebbe essere lui il primo acquisto da ufficializzare insieme all'attaccante, 21enne, Di Francesco.